Due giovani pusher rispettivamente di 23-26 anni sono stati arrestati dai carabinieri del comando provinciale di Foggia a Trinitapoli. I due giovani sono stati sorpresi nel quartiere Unra Casas, base operativa di un locale gruppo criminale recentemente colpito dall'operazione turnover, mentre cedevano una dose di marijuana ad un acquirente in cambio di 5 euro, un particolare che non è sfuggito ai militari. La droga è stata prelevata da un vano contatore dell'acqua di una palazzina. È scattato allora l'intervento e i due sono stati bloccati mentre l'acquirente si è dileguato. Nel vano contatore i carabinieri hanno trovato una scatola per detersivi con 16 bustine contenenti dosi già pronte, per un totale di circa 20 grammi di marijuana, 10 di hashish e 10 dosi di cocaina, 2,5 grammi. Dopo le formalità di rito su disposizione della Repubblica di Foggia, gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Il GIP del Tribunale di Foggia, che ha convalidato l'arresto, ha disposto nei confronti del 23enne l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre nei confronti del 26enne l'obbligo di dimora a Trinitapoli con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 21.15 alle ore 7.30.